Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo stando in piedi pregava così tra sé. O Dio ti ringrazio perché non sono come gli altri, uomini ladri ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano invece fermatosi a distanza non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo ma si batteva il petto dicendo O Dio abbi pietà di me peccatore. Io vi dico questi a differenza dell'altro tornò a casa sua giustificato perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, buona domenica, buona domenica nel giorno del Signore. Domenica ordinaria e il tempo appunto ordinario non ci propone delle letture particolari quindi la riflessione sul Vangelo di oggi è un Vangelo piuttosto comune, piuttosto già letto, già analizzato e ampiamente commentato perché è uno di quelle parti di Vangelo in cui realmente l'ipocrisia risulta al massimo della sua espansione. Quindi abbiamo una capacità di Gesù di farci capire che in realtà non cambia l'impatto con Dio, non cambia il fatto di voler essere davanti a Dio e cercare la perfezione, non cambia il modo di porsi, due persone si pongono nella stessa maniera davanti al Signore. Due persone cercano di fare un percorso, una non lo fa, un'altra lo fa. Quello che lo fa, e lo fa anche con una certa dose di preparazione e di cognizione, di introspezione e tutti questi passaggi che fa, questi meriti che fa, questo step che continua ad essere un'evoluzione passo dopo passo si mette davanti al Signore e fa quello che noi chiameremo un esame di coscienza e potremmo dire appunto come ognuno di noi davanti al Signore Signore non sono un ladro, non sono un mascalzone, sono una persona che segue tutti i tuoi 613 precetti, sono una persona che si comporta bene così. Quando noi facciamo l'analisi della nostra persona, un'analisi logica della nostra persona, e alla fine ci ritroviamo con un pugno di mosche, perché il Signore ci dice sì, tu è vero, sei così, hai fatto quello, però nello stesso tempo ti sei paragonato, hai fatto un paragone con le altre persone. Quindi nel rapporto con Dio possiamo, tra virgolette, vantarci, come lo stesso verbo che usava San Paolo, mi vanto nel Signore, anche noi possiamo vantarci nel Signore. Nessuno ci dice, nessuno ci obbliga, neanche lo stesso Signore ci vieta di non dire ciò che noi siamo. Nell'analisi della nostra persona, nessuno e neanche il Signore ci ha mai insegnato a non sbiscerare tutta la nostra essenza, tutta la nostra personalità, tutta la nostra capacità e tutta la nostra volontà di porci davanti al Signore. Ci mettiamo davanti a Lui e diciamo tutto quello che è, come lo faremo con il confessore. Quindi a maggior ragione è con Dio che non ci sono filtri, possiamo e dobbiamo essere ciò che siamo. Quindi di conseguenza se noi abbiamo fatto dei passi in avanti dei meriti o abbiamo abbattuto grazie appunto alla sua grazia, scusate il gioco di parole, se abbiamo abbattuto quel muro di quelle debolezze, che lo dobbiamo a Lui perché è per grazia ricevuta, penso che sia giusto dargli l'ode e gratificarlo. Il problema che nasce con Dio, e in questo noi molte volte non riusciamo ad interpretare realmente quella che è la parola di Gesù, quando ci dice se tu vuoi pregare il Padre, chiuditi nella tua stanza e prega il Padre tuo in segreto. E in quella relazione ci deve essere solamente noi e il Padre, il Padre e noi, nessun altro. Dal momento in se stesso che noi inseriamo altri soggetti nel colloquio, nella relazione, in quel momento tutto quello che è il baricentro si sposta su un'altra direzione, tutto quello che è un rapporto, non è più un rapporto, ma è un rapportarsi invece ad un'altra cognizione, quella del livello. Quindi ricordiamoci spesso e volentieri che nessuno, nessuno e niente, forse anche il Padre, la Madre o qualsiasi altra persona, debbono entrare nel nostro rapporto con Dio. Non è consentito che vi siano altre interferenze, né per dire che quello è meglio, né per dire che noi siamo peggio. L'importante è che invece noi riusciamo sempre ad avere, come dice poi Gesù, una base d'umiltà ed essere quello che siamo e ringraziare per ciò che siamo. Quindi non avere assolutamente altri metri di rapporto. Detto questo, la parte dell'umile viene esaltata perché quell'umile non si rapporta con nessuno, si rapporta con se stesso e vede la sua pochezza. Quindi anche noi quando faremo un passaggio con il Signore davanti a Lui, riconosceremo sempre la nostra umiltà che è quella di non poter agire se non ci sia Lui che ci media. Quindi di conseguenza la grazia arriva a noi, mediata sempre dal Signore Gesù. Quindi o noi ci rapportiamo da soli verso il Signore e quindi di conseguenza riusciamo a capacitarci di essere delle umile persone che hanno una grazia e con quella grazia si sbloccano per avere un asceso migliore oppure non andiamo da nessuna parte. Quindi il concetto di oggi, il Vangelo di oggi è proprio quella. Ricordiamoci sempre che o con il Signore o senza il Signore, ma anche nella vita civile non facciamo mai confronti. Il confronto è sempre un qualche cosa che danneggia tutti, in primis noi. Quindi siamo dotati di una nostra capacità di essere, un nostro modo di porci, un modo nostro di esporci. Quindi in base a questo noi, ed essendo il mondo molto grande e quindi ci sia anche spazio per tutti, dobbiamo cercare di far valere tutti quelli che sono i nostri talenti davanti al Signore, senza soffocare nessuno. Per questo oggi avrei voluto prendere come esempio un santo che non è molto conosciuto, anzi forse non è quasi conosciuto per niente, che è San Amazio di Clermont, un vescovo. Praticamente questo vescovo, questo consacrato era sposato perché ai tempi era ancora licenza, secondo il detto di San Paolo che i vescovi potessero prendere moglie e questo vescovo appunto aveva attraverso la moglie, che tutti e due avevano un'inclinazione verso l'arte, soprattutto la moglie aveva questo hobby di poter comandare agli artisti, di creare rappresentazioni artistiche, proprio pitture sacre, pitture che comunque riguardassero il Vangelo e riguardassero le Sacre Scritture. Ecco, io penso che tutto ha creato questo filone a partire da San Amazio, come in tutte le altre comunque chiese in cui vi erano espressionisti. L'opera di San Amazio è secondo me importante in questo contesto evangelico proprio per una situazione ben particolare, che è quella che noi dobbiamo creare senza distruggere gli altri. San Amazio attraverso sua moglie hanno creato tante belle cose, tanta arte, non hanno assolutamente svalorizzato nessuno, probabilmente comandavano ai pittori di poter esercitare una certa pittura, un certo stile, secondo certe inclinazioni richieste, ma comunque l'espressionismo, come dicevo prima, del pittore non veniva meno. Quindi vi possono essere sicuramente riconoscimenti al pittore, come a San Amazio, quindi di conseguenza penso che nel mondo, come in questa situazione, vi sono varie espressioni, tutti quanti noi siamo diversi l'uno dall'altro, e ognuno di noi ha le sue competenze. San Amazio non sarà mai stato un grande pittore, e i pittori non saranno mai stati dei grandi vescovi. Però penso che ognuno potesse riequilibrare le proprie capacità senza andare in scontro con nessuno.